Prima mondiale al 56esimo London Film Festival di Chakravue, Il Labirinto. Thriller politico del regista indiano Prakash Jha, che va oltre i soggetti cliché made in Bollywood. Attraverso la storia di due amici che si trovano a combattere su fronti opposti, la pellicola racconta la battaglia armata dei Naxaliti, i ribelli maoisti indiani, il cui movimento è cresciuto dalla fine degli anni 60, con l'aggravarsi delle condizioni di estrema povertà e ingiustizia sociale nelle zone rurali del paese. Prima di fare questo film ero abbastanza ignorante sul tema, dice uno dei protagonisti. Voglio dire sia a conoscenza del movimento, ma non si sa quanto sia importante. Ha avuto una forte penetrazione in India e penso non possa più essere ignorato. Combattono per una vera causa, dice il regista, e il governo è preoccupato per questo. Penso che si debba comprendere meglio il perché e il come di ciò che sta accadendo. Una questione seria, diffusa nel paese. Ha toccato circa 200 distretti, centinaia di migliaia di persone ne sono coinvolte, ci sono spargimenti di sangue ogni giorno. La questione è importante. La pellicola sarà nelle sale britanniche e indiane dal 24 ottobre.